Allora, ciao noi siamo i Minimo Animalist e siamo felicissimi di stare qui al concerto del 1 maggio a Taranto. Noi siamo assolutamente a favore della chiusura di tutte quelle zone in cui le duffe inquinano il nostro ambiente, l'ambiente di Taranto. E siamo a favore degli operai che potrebbero essere messi a disposizione per la politica di questi interventi. Si può donare 5 per 1000 quest'anno a questa organizzazione. Siamo felici di stare qui anche perché a Brindisi, noi siamo di Brindisi, abbiamo una situazione analoga con la centrale al carbone. Per cui tutta la Puglia, Brindisi, Taranto può vivere delle sue bellezze e non di questi agenti inquinanti.